Oggi viviamo in una società invasa dalla tecnologia. Nella maggior parte degli uffici troverete una scrivania con un computer. E questo mi sembra fantastico perché un piccolo oggetto attraverso mail, chat, webminari ti permette di collegarti con persone su tutto il pianeta. Ma entrare in questa era tecnologica non significa che non ci sia più bisogno di rapporti umani. E la mia esperienza ne è la prova. Vi assicuro, ci sono molte aziende interessate a contrattare un commerciale solamente per il fatto che riesce a parlare di fronte ad un pubblico numeroso. E vi assicuro che anche in politica coloro che ottengono il maggior numero di voti sono quelle persone che riescono a trasformare una parola in magia. E nella scuola i professori più apprezzati sono quelli che riescono a ottenere l'attenzione degli studenti e regalare un loro messaggio. Con l'arrivo di internet siamo entrati nell'epoca dell'informazione. E un lavoro importante in questa epoca è quello di riuscire a trasmettere agli altri in maniera adeguata l'informazione di cui disponiamo. E per farlo ci serve una buona abilità di public speaking. In questo corso online e questo corso introduttivo voi imparerete tutte le tecniche del public speaking e riuscirete a stare di fronte ad una platea e sentirvi comodi, indipendentemente dal numero dei presenti, e riuscire a trasmettere un messaggio e a catturare l'attenzione. Non solo sconfiggerete la paura, ma imparerete a divertirvi. E il vostro messaggio sarà professionale e memorabile. Il video corso online contiene tutte le tecniche e tutti gli strumenti che io utilizzo durante i miei seminari. Imparerete a utilizzare le migliori tecniche dell'oratoria moderna. Imparerete a vincere la paura e divertirvi con il pubblico. Imparerete a trasmettere un messaggio in forma chiara. Ed imparerete a creare un discorso brillante. Imparerete a sorprendere, divertire, impressionare. L'arte oratoria non è una dote innata. Ve lo assicuro, richiede studi e pratica. Però se avrete la voglia di iscrivervi a questo corso online di public speaking e studiare e praticare, vi assicuro che diventerete dei grandi oratori. Grazie. 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 Grazie a tutti.